Salve ragazzi, scusate se faccio il video tramite telefono per i miei capelli, mi sono da poco svegliato però volevo assolutamente fare questo video tra l'altro con la sciarpa per la partita perché l'ho ritrovata finalmente volevo parlare appunto della partita valevole per il primo turno della Supercoppa Italiana di Serie C che si è vista ieri a Leogano, calcio d'inizio alle ore 18 tra Padova e Livorno e io all'inizio ho pensato minchia dobbiamo affrontare le due squadre che hanno vinte i rispettivi gironi Livorno e Lecce che hanno più esperienza di noi e ho pensato sarà un po' dura siamo bene di fare il meglio possibile, di impegnarci come dice appunto Mr Bisoli che non andiamo lì tanto per allenarci cioè dobbiamo impegnarci e magari chissà la vinciamo e appunto ho paura anche perché credo 3-4 anni fa Livorno era in B qualche anno prima era in Serie A invece noi non abbiamo tutta questa esperienza poi mi preoccupava il fatto di dell'ex vantaggiato in campo, c'era anche Gian Donato però partiva dalla panchina e comunque un po' di speranza ce la tengo sempre perché Padova ha vinto il suo girone come le altre due perché non sperarci mi sveglio oggi, ieri non ho visto la partita allo stadio, non potevo andare ma non ho visto il risultato, mi sono addormentato quasi subito molto presto di sera, ieri vado a vedere su internet e ho fatto anche una storia della mia faccia appena ho visto il risultato poco fa ho visto gli highlights sul canale ufficiale di Youtube del Padova che vi lascio sotto in descrizione il Padova batte 5-1 il Livorno cioè 5-1 ok magari il Livorno non si è impegnato così tanto ma nel primo tempo soprattutto l'abbiamo surclassato, hanno fatto due tiri forse uno nello specchio cioè veramente surclassati dobbiamo dire grazie all'ex di turno Luca Bellingheri che ha fatto una doppietta una doppietta anche di capello e ha segnato Ravanelli un difensore in prestito dal Sassuolo se non vado erando e per il Livorno segna vantaggiato su un calcio di rigore che secondo me il rigore poteva anche non esserci comunque sono veramente felice e ora la Supercopa funziona così la perdente delle due tra Padova e Livorno affronterà il Lecce nella prossima partita che ora non so quando è comunque si giocherà quindi Lecce-Livorno e poi il Lecce affronterà l'altra squadra cioè noi e chi ha fatto più punti tra tutte e vince la Supercoppa italiana in Serie C ed è l'ultima partita della stagione poi ci sarà un po' di vacanza all'inizio del precampionato estivo e finalmente si ritorna in B e potrò anche magari più facilmente andare a vedere qualche partita allo stadio soprattutto alle Ugani in trasferta devo ancora andarci una volta chissà magari riuscirò anche a fare qualche trasferta comunque se vi piacciono questi video lasciate un bel mi piace un bel commento che ve ne porterò sempre più volentieri e sempre forza a Padova un saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi